Ah, non riusciremo mai ad avvicinarci. L'intera zona è coperta dalla nebbia. Finiremo per farci strappare l'anima se ci avventuriamo alla cieca. E che cosa vogliamo fare, allora? Semplice. Dobbiamo squarciare la nebbia. Faccio strada io. Andiamo. Squarciare la nebbia. Davvero, possiamo farlo? Sicuro. Rinco e gli altri hanno escogitato un modo per farlo. Dobbiamo sperare che funzioni. Noi. 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 Che c'è l'epa? Niente panico, puoi farcela! Non puoi schivare un colpo, para! Non puoi schivare un colpo. Non puoi schivare un colpo! Sei un vero ghost hunter adesso. Sì! Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì.